Ciao a tutti carissimi amici e amiche. Allora, un giorno di punto in bianco avete visto il mio canale diventare in gran parte riservato agli abbonati. Vi sarete chiesti il perché. Detto fatto avete visto che sono sorti tantissimi profili fake con le mie foto, addirittura un profilo fake anche su YouTube che io ho segnalato e avendo anche violato il copyright, praticamente questo canale fake che aveva un solo video all'attivo, un video di un rituale il quale video era stato messo per gli abbonati e lui l'aveva preso da TikTok, social che detesto, al quale non sono neanche iscritta, al quale ripeto non sono neanche iscritta, insomma praticamente dopo poche ore YouTube gli ha rimosso il video. Quindi io ringrazio YouTube e ringrazio anche voi per le segnalazioni che avete fatto. Quindi io non capisco come mai, vabbè, come mai questo qui abbia potuto fare questo canale. Ma torniamo agli abbonamenti. Un attimo che sistemo qui. Allora, perché? Perché ho deciso anch'io di fare come altri YouTuber. Un attimo che accendo le luci un attimo. Come altri YouTuber, come altri YouTuber che hanno messo il canale in abbonamento, dopo dieci anni che avevo il canale, insomma pubblico, aperto a tutti, ho deciso di farlo, ho deciso di farlo perché, perché davvero c'era un'inflazione dei miei video dappertutto, su tutti i social, ma forse solo quello. Anche derisione, meme non sempre graditi, per lo più quelli che stanno su Instagram sono stati autorizzati anche da me, quindi va bene, però delle volte davvero hanno esagerato. Ecco, e quindi per questo ho deciso di mettere il canale, gran parte del canale in abbonamento, anche perché certi contenuti, mi sono resa conto, forse non devono essere troppo divulgati. Io volevo fare una cosa democratica, quindi spiegare in maniera molto semplice, in maniera molto semplice questi contenuti per renderli accessibili a tutti. In questo ho sbagliato. Adesso, per quanto riguarda l'abbonamento al canale, ci sono due livelli. Allora, c'è un livello base, quello che costa 2,99 euro, diciamo 3 euro, nel quale metterò, posterò dei video specifici, dei rituali, ne ho registrato uno poco fa, o anche indicazioni esoteriche. Poi c'è qualche live, quella insomma, come dire, non vorrei dire più superficiale, qualche live, quelle più amichevoli, diciamo, invece, ma sempre esoteriche. Invece nel secondo livello metterò dei rituali, posterò dei rituali, dei video di rituali, naturalmente tutti i rituali che non ci sono ancora su YouTube, li sto registrando adesso, dei video di rituali, fare una specie di corso di magia, alcuni anche molto approfonditi, che vengono da questo mio libro, perché qui ci sono veramente dei rituali particolari su questo libro, e quindi che vengono da questo mio libro dedicati non ai neofiti, ma a coloro che già praticano da un po' di tempo. Ecco, poi se qualcuno si abbonerà per diffondere questi video, essendo protetti da un doppio copyright, questi video poi verranno rimossi e probabilmente gli verrà rimosso anche il canale, perché dopo tre infrazioni gravi il canale viene rimosso, quindi ve lo dico che è così, e niente, l'ho fatto per proteggermi, non per guadagnarci, per adesso siamo in tre, cinque persone, quindi non è che io, anzi, forse guadagnavo più prima quando era accessibile a tutti, ma a parte che ho sempre guadagnato pochissimo, questo posso dirlo, quindi non è per quello, non è per quello. Guadagno più quei libri che con i video, sembrerà strano, ma è così, e niente, sto scrivendo anche un libro che non c'entra niente sui social, in generale, che uscirà quest'estate, poi ci sarà un altro libro di magia molto, molto, molto approfondito. Non svelo di più per quanto riguarda quello che dirò in abbonamento, proprio per non avere problemi, tanto io obbedisco alle norme di YouTube per mettere il canale in abbonamento, ci sono stato un bel po' di tempo, ho dovuto fare, ho dovuto, non firme digitali, ma ho dovuto dare varie conferme a YouTube su quello, su quello che io pubblicherò nel canale, nella parte riservata agli abbonati. Va bene, quindi siccome alcuni mi hanno detto, sì ma che differenza c'è tra il primo e il secondo livello, io volevo mettere un livello e basta, ma mi sembrava non fosse possibile, adesso poi riguarderò, credetemi, volevo mettere un livello e basta, però addirittura c'erano tre livelli, nel terzo 27 euro, cioè non sono mica Netflix, a parte costa meno Netflix, quindi volevo mettere un livello e basta, quello da 3 euro, ma non sono riuscita, sembrava che due livelli ci dovessero essere per forza, o non sono stata capace io, davvero, e niente, quindi cercherò di differenziare, è più complicato differenziare in questa maniera qui, ecco, quindi però qualche live la metto anche nel primo livello. Con le live partirò appena siamo una decina di persone, se no non ha senso, la programmerò con molto anticipo e volevo anche fare nelle live della cartomanzia a chi segue, senza pagare un centesimo in più naturalmente, perché ho approfondito la mia cultura per quanto riguarda Eleanor Man, alcuni dicono ma ci vuole per forza la carta tematica, invece guardate, ho saputo da, insomma, da una grande cartomante di una certa età che lei, lei fa proprio dei consulti, insomma, abita a Torino, va bene, non vi dico nient'altro, e lei Eleanor Man li usa, li usa senza la carta tematica, in una maniera tutta particolare che mi ha fatto vedere, ecco, però io li userò in maniera classica, e quindi la carta tematica, non so, ad esempio vogliamo sapere cosa sul lavoro, si mette la volpe in mezzo, eccetera, eccetera, e la stessa cosa, se si vuole sapere per l'amore o altro, si mettono la carta tematica in mezzo e poi nei mucchietti che si fanno, si prendono le carte che vengono prima, dopo, eccetera, però ripeto, non tutti sono d'accordo con questo metodo, e userò anche la sfera di cristallo, magari quando faccio le rune, e vabbè, quindi questo volevo dire, che quindi nel secondo livello ci saranno anche questi consulti di cartomanzia senza pagare un centesimo in più, leverò anche maledizioni nella diretta, perché io so fare molto bene questo, levare le maledizioni, anche a distanza, so fare molto bene, e niente, carissimi, quindi questo differenzia i due livelli, intanto, sia quelli del primo che del secondo livello, avranno a disposizione quasi un centinaio di video, che quelli che ho fatto in questi anni, che adesso non saranno più riproducibili da nessuna parte. Va bene, allora io vi saluto, come venite, ieri ero un po' agitata, e voi carinamente vi avete detto, ma stai tranquilla, stai tranquilla, no, ma io vedete, e poi alla fine stavolta ho dormito tranquillamente, qualche ora in meno, più sono svegliata un po' prima, perché volevo fare dei video, infatti ho fatto, ho fatto dei video prima di questo, ho fatto altri due video stamattina, uno riservato agli abbonati, e uno invece che andrà sul, sul canale della recensione di un bellissimo libro. D'accordo, vi saluto, e a presto quindi, ciao a tutti!